ari eccoci ragazzi ebbene dopo 24 ore si sono passate 24 ore forse 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 sono riuscita a terminare questo disegno allora nella prima parte del video vi dimostro un'altra volta quello che ho fatto ieri cioè il casino che ho fatto nel senso che ho provato a mettere i colori bla 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 ho mischiato rimischiato ho provato a sfumare e tutto il resto ma alla fine mi è venuto un bel casotto quindi oggi mi ci sono messa di impegno e ho detto no oggi ci devo riuscire ho provato riprovato 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 e alla fine ma non mi è venuto proprio identico e preciso come come il disegno originale però spero spero che sia venuto comunque una bella bozza chiamiamola così ma fatemi sapere se vi piace e io nel frattempo vi lascio il video e spero che vi piaccia anche perché ci ho lavorato tanto quindi per favore non siate tanto critici nei miei confronti fatemi sapere e vi ringrazio e vi lascio alla fine del video e buona visione e ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 Grazie per la visione!